Grazie signori Presidenti, buongiorno a tutti i presenti e grazie a Federanziani per questa iniziativa che è perfettamente in linea con gli obiettivi di questa alleanza tra pazienti e medici per dare le migliori risposte possibili. La società italiana di pneumologia come vedete è molto giovane, nasce nel 2016 ma nasce dalla fusione di due società consolidate, la società italiana di medicina respiratoria Simere di estrazione universitaria e l'associazione interdisciplinare per lo studio di malattia e ispiratoria AIMAR che era più trasversale e ben rappresentata in ospedale sul territorio. All'epoca ero io il presidente, cioè lo scorso ora infatti sono il pasto presidente di questa organizzazione e voglio fortemente insieme con i colleghi cercare questa fusione perché secondo me la pneumologia ha bisogno di aggregarsi. Siamo organizzati in sezioni regionali, 13 in gruppi di studio, al momento i clinici sono all'incirca 1200, in realtà sono un po' di più però i registri e anche le revisioni delle iscrizioni sono in corso ma credo che dovremmo essere intorno ai 1500 e questo è un po' un paradosso per una patologia, quella respiratoria che rappresenta abbiamo visto la terza causa di morte dopo quella cardiovascolare e quella neoplastica e la seconda se aggiungiamo quella neoplastica del polmone aggiunta alle malattie respiratorie il numero dei pneumologi purtroppo si sta progressivamente riducendo. Una caratteristica importante a cui teniamo molto è che accanto alla società di pneumologia c'è il centro studi ente di ricerca riconosciuta con decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri con personalità giuridica che è in fondo l'ex AIMAR che cura i progetti di ricerca. La mission è quella di tutte le società scientifiche ovviamente dedicata agli obiettivi specifici delle nostre competenze cioè l'apparato respiratorio e la visione ovviamente è sperare che i nostri pazienti abbiano una prospettiva in termini di prevenzione e di terapia migliori di quella che possiamo al momento assicurare. Ci occupiamo ovviamente come tutte le società scientifiche di ricerca clinica cercando anche di stimolare molto la raccolta di dati sul campo perché nella nostra area sono dati abbastanza carenti c'è ovviamente un'intensa attività formativa con un'ottica interdisciplinare perché nulla tra le malattie dell'area internistica è più trasversale, più internistica proprio della pneumologia. L'età media dei nostri pazienti è molto avanzata. Il fatto che abbiano una sola malattia è quasi un evento raro quindi dobbiamo necessariamente confrontarci e collaborare con altri colleghi. Il nostro obiettivo è un po' di lavoro perché poi me ne servirò dopo nelle criticità. Sono queste conferenze di consenso che abbiamo periodicamente organizzato. L'ultima l'abbiamo fatta a novembre di quest'anno che hanno proprio questo scopo di interdisciplinarietà, di trasversalità con le altre componenti scientifiche e con le istituzioni per dare delle risposte. Le patologie che interessano la BPCO ovviamente è quella che soprattutto nell'anziano assume grande importanza. I numeri sono vedete estremamente variabili perché di fatto c'è una grossa sottostima. Comunque si sa che nell'anziano oltre 65 anni il 10% della popolazione ha questo tipo di patologia e si sa anche che è più frequente e prevalente negli uomini rispetto alle donne. È una delle maggiori cause di mortalità e soprattutto il problema vero di questa patologia è che ha un forte impatto economico sul servizio sanitario nazionale perché questi pazienti vivono molti anni. Non è frequente vedere 20, 25, 30 anni con questa patologia quindi immaginiamo quali sono i costi per il sistema che ne conseguono. Teniamo conto inoltre che il 57% dei ricoveri di pazienti con BPCO e avviene in pazienti che hanno insufficienza respiratoria quindi nei problemi della BPCO si assommano quelli dell'ossigenoterapia, della ventilazione meccanica rendendo ancora più complessi e più costosi questi pazienti. Un po' una sorpresa nell'attenzione di tutti quanti è l'OSAS. L'OSAS cioè le apneostruttive durante il sonno sono la patologia respiratoria più frequente e più trascurata. Questo studio è stato pubblicato appunto sull'ANZET che riguarda intera per 4 anni l'intera città di Lausanna dimostra dei dati di prevalenza che sono spaventosi 23,4 nelle donne e 49,7% degli uomini. Questo è dovuto anche agli strumenti molto più sensibili di misurazione che questo gruppo di lavoro ha studiato e che ha consentito di far emergere realmente questa patologia. Questa malattia è fortemente sottodiagnosticata, siamo sotto l'1% di diagnosi nel nostro percetto quindi c'è un abisso. Questa malattia è estremamente più frequente negli anziani rispetto ai giovani, la sua prevalenza aumenta con l'età ed c'è questa significativa associazione indipendente con le grandi patologie croniche dell'anziano, l'ipertensione, il diabete mellito, la sindrome metabolica e la depressione. Quindi c'è un quadro che è veramente preoccupante. Infine il cancro del polmone, se ne è appena parlato, è una patologia di cui diamo solo dati di incidenza, 40.000 nuove diagnosi all'anno, sappiamo che ha una mortalità molto elevata e aumenta negli uomini addirittura il 70%. Criticità e implicazioni le possiamo ridurre in quattro parole soltanto. Formazione, insufficiente da una parte, sia negli studenti, sia negli specializzanti, sia negli operatori sanitari in particolare e quindi le implicazioni che ne conseguono. Organizzazione, purtroppo pochi pneumologi sul territorio, pochissimi, pneumologia riabilitativa di recente introdotta con ILEA, pressoché assente in molte parti. Responsabilità, esempio il PDTA, c'è una confusione enorme, in ogni regione il suo, ogni ALS quasi quasi il suo, in alcune parti non ci sono nemmeno. Responsabilità, responsabilità è anche il cittadino che da una parte deve considerare il servizio sanitario nella maniera in cui ci ha sintetizzato brillantemente il dottor Guerra stamattina, ma dall'altra parte abbiamo noi i nostri compiti di educazione sanitaria per quanto riguarda il fumo e di educazione terapeutica per quanto riguarda la capacità di autogestirsi questi pazienti e altre figure professionali come i farmacisti che ad esempio che potrebbero giocare un ruolo fondamentale perché in molte aree del nostro territorio rappresentano l'unico ma un posto sanitario che non vengono adeguatamente utilizzati e non danno la loro piena collaborazione perché non sono adeguatamente formati. Tutto questo se ben fatto e tutto sommato dipende più da un modello organizzativo che da risorse economiche vere e proprie potrebbe garantire sostenibilità al sistema. Vi ringrazio.